siamo in compagnia con guido barboiani col professor guido barboiani genetista di fama internazionale qui in comune di adria in sala consigliare per presentare quello che è sull'ultimo libro come eravamo niente professore le chiedo un po cosa cosa la portata a scrivere questo libro e di cosa parla il libro parla del nostro album di famiglia cioè della lunga serie di antenati di parenti che siamo riusciti a conoscere grazie al lavoro dei paleontologi che studiano i fossili degli archeologi che studiano gli oggetti che queste persone usavano e di recente anche dei genetisti perché dal dna di questi fossili siamo riusciti a imparare molte cose su di loro e l'idea è che finalmente possiamo guardare in faccia questi nostri antenati parenti grazie all'opera di alcuni paleo artisti cioè degli scultori che con le tecniche della polizia scientifica hanno ricostruito l'aspetto a partire di queste persone a partire dalle loro ossa dei loro resti fossili quindi c'è un discorso su quello che è stata l'evoluzione dell'uomo ma anche un rapporto diretto con alcune persone che siamo riusciti a ritrovare e di cui siamo riusciti a imparare alcune cose